Un commento ragazzi sulla partita di oggi? Lascio parlare prima di Poccio che ha fatto doppietta Poccio ho visto una polemica con l'allenatore, cosa vuoi dire di questa partita? Felice della doppietta con l'allenatore e con le sue scelte, le rispetto poi parlo al campo Felicissimo di questa vittoria, ci devo riprendere nelle ultime partite e cercare di andare a attaccare la classifica Ottima partita da parte di tutti i ragazzi, bene così cerchiamo di continuare Matteo Maccio, qual è stata la chiave di questo successo oggi? L'approccio alla partita, abbiamo fatto una prestazione molto importante dal punto di vista tattico Siamo riusciti a tenerli nel primo tempo, abbiamo fatto in modo che loro non sviluppassero il loro gioco Che in questo campionato è stato molto importante fino a questo momento Siamo comunque finiti sotto nel primo tempo immeritatamente Nel secondo tempo la solitariazione di gruppo tipica nostra Abbiamo ribaltato il risultato, raggiungendo il secondo 4-1 Quindi non c'è niente da dire, è una vittoria importante, bella Che sicuramente ci farà affrontare questa seconda parte di campionato in maniera differente Rispetto ad oggi, l'obiettivo rimane alla salvezza Raggiungiamola matematicamente nel prima possibile e poi divertiamoci Pocio, con la tua carriera e la tua esperienza, un commento sul campionato della resistente? Abbiamo ancora tanto a dare Dobbiamo stare attenti nelle prossime partite e cercare di dare il massimo Perché ci giochiamo tutto nelle prossime tre partite Quindi sappiamo benissimo di che squadra siamo fatti E caratterialmente quindi la resistente è una squadra di carattere E poi abbiamo la brigata Foracra che ci sostiene Tutta la curva è sotto le partite E' uno spettacolo Vabbè io da allenatore invece